È stato presentato in Comune a Pordenone Ragazzi e Ragazze Insieme per una comunità più verde e inclusiva, un progetto che ha coinvolto l'amministrazione comunale, l'Informa Giovani, il Lucio Leopardi Majorana, gli Scout della Parrocchia del Sacro Cuore, le Fondazioni Fenice, Cesvi e l'Associazione Terra E, Officina della Sostenibilità. I veri protagonisti sono stati i ragazzi della quarta A del Leo Major, che col sostegno della professoressa Sabrina Garlatti e dopo aver seguito un percorso di formazione incentrato sullo sviluppo delle comunità sostenibili in ambiente urbano, hanno presentato al settore urbanistica del Comune di Pordenone un progetto per contribuire a riqualificare l'area del vecchio pificio Tomadini. Attraverso un finanziamento giunto da una raccolta fondi promossa da Intesa San Paolo, sono stati creati, in questa che è una delle più suggestive aree della città, uno spazio fitness con due attrezzi ginici inclusivi, uno spazio ricreativo con due gazebo ed un cartello che spiega il senso del progetto. Questo progetto è intanto interessantissimo, che ci ha portato a scoprire un luogo della città che ai più, me compreso, non era conosciuto, e uno dei politici giovanili è stato quello di facilitare un pochettino quelli che sono i contatti fra la scuola, la fondazione Cesvi, la fondazione Fenice e tutti coloro che hanno dato una mano in questo progetto. Cito per esempio il professor Pagura che ha aiutato le ragazze nella costruzione storica di tutto quello che è successo nella zona dell'ex opificio Tomadini. Noi abbiamo semplicemente messo insieme le cose ed è una cosa che facciamo, facciamo quotidianamente dando ai ragazzi la conoscenza di tutte le opportunità che questo territorio offre loro, non solo a livello locale ma per esempio collaborando col Punto Europa anche a livello internazionale. È una cosa estremamente interessante perché rispetto al passato c'è volontà di ascolto, c'è volontà di creare una città a misura di giovane e per crearla abbiamo bisogno proprio di questi ragazzi che ci spieghino un attimino quali sono le loro esigenze e le loro aspettative. Allora è nata come un'esperienza di PCTO e quindi come una possibilità per i ragazzi di vedere come funziona il mondo del lavoro che tra poco incontreranno. Hanno avuto la possibilità di conoscerlo secondo me nel migliore dei modi nel senso che ciò che ha veicolato tutto quanto è sempre stata la gentilezza rispetto alla gentilezza degli operatori che hanno trovato dei professionisti che hanno trovato rispetto dei tempi, rispetto delle promesse, parola data ma sempre tutto portato avanti con un grandissimo rispetto per tutto e per tutti. Noi abbiamo iniziato questo progetto l'anno scorso e siamo stati appunto coinvolti come classe di giovani che dovevano appunto iniziare questo progetto e trovare un'idea per riqualificare un'area qua a Pordenone e piano piano appunto abbiamo sviluppato questa idea che abbiamo concluso solamente quest'anno e infatti questa è stata l'inaugurazione. Questo è soltanto il primo passo verso la trasformazione dell'ex Tomadini in un parco energetico dotato di area studio e ristoro di una zona artistica e di una fitness. Una location accessibile a tutti, destinata principalmente ai giovani in cui si possa studiare immersi nel verde tra le bellezze senza tempo della città.